3, 2, 1, ricolleghiamoci da Fipe, nella dolce agorà di Fipe, noi approfittiamo perché abbiamo anche il Presidente, possiamo disturbarla Presidente? Possiamo disturbarla, com'è questo gelato? Eccezionale. Perché qualcuno dice, ma come hanno fatto a fare 120 gusti in così poco tempo? E' eccezionale perché quelli della Fipe hanno una marcia in più, c'è niente da dire, no ma veramente è buonissimo. Possiamo approfittare di questo? E se tu mangi questo gelato non ti viene questa pancia? Ecco, ecco, lo sapete. Non è calorico? No, assolutamente. Se lo verifichiamo. La bontà, quindi i sapori, le materie prime ci sono tutte? Tutte, tutte, la qualità è una delle eccellenze italiane, questa nostra manifestazione host, è certamente importante. Il valore del prodotto attraverso una vetrina come questa, attraverso dei maestri come questi, attraverso la professionalità che in qualche modo Fipe tende a voler valorizzare. E' proprio uno degli aspetti su cui il Presidente della Fipe, Lino Stoppani, si sta impegnando in maniera eccezionale, cioè mettere insieme professionalità e qualità per valorizzare l'eccellenza italiana. E oggi anche questa importante manifestazione qualifica sempre di più e valorizza sempre di più il Made in Italy, cioè la nostra eccellenza agroalimentare. Questa piazza ha voluto valorizzare i giovani, le scuole, la formazione? Anche questo è fondamentale, valorizzare i giovani, valorizzare la creatività, valorizzare l'ingegno, significa rendere sempre di più attrattivo e competitivo la nostra eccellenza italiana e quindi anche il nostro paese. Questo è un prodotto, qualcuno diceva, qualche campione di gelateria, che non possiamo trovare sicuramente al supermercato? Non c'è dubbio, questo è un prodotto che si trova nelle gelaterie, mi pare anche giusto. E quindi il valore diciamo... Aumenta sempre di più, aumenta sempre di più perché arricchisce e valorizza anche quella che è la piccolissima imprenditoria nostra e che è un punto di riferimento non soltanto economico ma anche sociale e culturale del nostro paese. Quindi secondo lei c'è ancora spazio per questa bella professione del gelatiero? C'è spazio e noi proprio anche come Coffcomecio siamo impegnati a fare in modo che questo spazio ci sia sempre e soprattutto sia a disposizione anche dei giovani. Cercando di valorizzare quei centri storici molto spesso, troppo spesso abbandonati. Troppo spesso abbandonati, bravissimo, perché anche il centro storico rappresenta un punto di riferimento, di grande civiltà, di grande serenità, di grande tranquillità. Bene, per ora da Milano è tutto, noi ci ricolleghiamo più tardi. Grazie. A dopo. Grazie.